ciao a tutte ragazze bentornate nel mio canale benvenuti in questo nuovo video nuova collaborazione con la luce della lampada allora sono stata chiamata da questa azienda che si chiama wiska si scrive di doppia isk f bello scrivo qua in alto sono stata chiamata da loro mi hanno chiesto se potevo collaborare e mi hanno fatto vedere cosa vendono nel loro sito e ovviamente mi fa tantissimo piacere le collaborazioni e sono sempre belle per far conoscere quello che vendono e essere chiamata essere cercata e non c'è cosa più bella per cui non non c'entra niente con le unghie però è un tema che secondo me sono cose che secondo me sono molto utile per tanti motivi adesso ve li parlo piano piano allora innanzitutto devo ringraziare l'azienda mi ha dato un codice sconto del 5 per cento che è per sempre per cui in qualunque momento tra un mese due mesi un anno volete utilizzarlo e sempre io lo lascerò fisso sotto insieme agli altri codici sconto che ho in possesso il mio codice ve lo scrivo qua in alto perché in modo tale che lo potete lo troverete anche scritto sotto comunque comunque è giusy niles 0 50 no ho già cannato allora il codice è giusy niles 0 5 off scambiato la o per 10 giusy niles 0 5 off ed è il 5 per cento devo dire tanto anche perché dopo vi dico i prezzi e non costano proprio per niente tanto costano veramente poco prezzo abbordabile allora parliamo di borse ne ha veramente tante di ogni genere anche le pochette per esempio io quelle siccome me non servono perché ne ho già tante ho preferito mi ha dato la possibilità di sceglierne tre io ho scelto quelle che utilizzo sempre perché io adesso vado in giro con quelle di plastica che riutilizzo continuamente però non è una gran bella cosa sapete anche voi perché dobbiamo salvaguardare il nostro mondo la nostra terra per cui se mi sono arrivate queste e sicuramente le sostituisco allora ve le faccio vedere una per una la prima che vi faccio vedere è questa qua col mandala io amo tantissimo il mandala della faccio vedere aperta vedete allora queste borse sono tutte di lino di puro lino le stampe sono state fatte sono state importate con un inchiostro ecologico innocuo per la salute stava al guardare l'ambiente l'ambiente allora stavo dicendo che queste loro utilizzano un inchiostro ecologico importato per salvaguardare la salute e rispetto e rispetto dell'ambiente ovviamente è riutilizzabile adesso questa ve la faccio vedere perché non lo manco mai aperta lo stavo preso dall'incontrario queste sono quelle che io utilizzo sempre allora il tema ma il tessuto allora di qua sembra velluto vedete e dietro questa la parte grigia sentite che è proprio lino allora ovviamente i manici per essendo una borsa e manici davanti si presenta così io amo tantissimo il mandala tanto mi piace veramente tanto e anche la cerniera non l'avevo vista è una bellissima cerniera no ma va bene ma questo non andava bene per la borsa spesa scusate allora alla cerniera che vi ho fatto vedere poi a una cerniera guardate a qua aspetta che la aspettate che l'apro perché come vi ho già detto io non l'ho aperta eccoci a una taschina qua interna molto comoda c'è questa non si può utilizzare per la spesa veramente poi adesso l'apriamo bene ed è tipo un sacchettino vedete adesso la faccio vedere bene dentro aperta sempre se ci riesco la vedete come capiente davvero molto bella comunque forse me la tendo in macchina sempre me la tendo in macchina poi morbidissima c'è questa qui questa del mandala dove c'è la stampa del mandala è morbidissima sembra seta bella mi piace tantissimo questa è veramente bellissima questa è una borsa questa qui col mandala è costata 8 euro e 37 per cui non è assolutamente tanto calcolando che questa la si può benissimo utilizzare sapete quando dovete andare magari a far la spesa prendere due cose ma due cose di numero mettete dentro il portafoglio lì dentro le chiavi e prendete tutto quello senza portare dietro tipo me lo zaino e quant'altro veramente molto comoda proprio per le cose piccole poi vi faccio vedere questa questa quando l'ho vista non potevano prenderla adesso ve la faccio vedere questa è la borsa con le rose questo è tutto puro allora questa qui è costata 5 ore e 58 costa vi metterò il link delle borse che io ho preso magari vi piacciono avete messo i miei stessi gusti le trovate sotto ovviamente vi metto anche il sito perché se andate dentro c'è la qualunque ci sono veramente tantissime cose poi per esempio anche le borse con la propria lettera per cui adesso andiamo farvi vedere andiamo siamo in tanti vi faccio vedere questa no è spettacolare questa ragazze allora questa è la classica borsa nel senso che ha i manici questa è proprio la borsa che io non la userei mai perché solo per quanto è bella è normale dentro perché questa qua è coderata non so se l'avete notato sì è coderata questa invece è proprio la classica borsa della spesa quando prendi delle cose e hai bisogno allora i manici sono neri e mo vi faccio vedere la bellezza di questa borsa di questa borsa no poi nodo giuro mi dovete dire poi se ho ragione no dai non ditemi che non no questa è troppo bella ma bella ma bella bella cioè io quando l'ho vista è stata la prima aver scelto guardate di qua e di qua cioè è stupenda io c'è mi rimasta qua guardate i particolari guardate i particolari qui sembra illuminarsi sembra che abbiano dei brillantini è un qualcosa e pensare che è fatta tutta con l'inchiostro naturale insomma non c'è niente di porcheria tutto lì nome stupenda io ci giuro io ci farai un quadro giuro nome troppo bella no ditemi se ho ragione perché veramente questa mi è rimasta qua dopo vi faccio le foto alla fine metto le foto delle borse così le vedete l'ultima scusate ma dall'altra parte c'era l'indirizzo anche noi allora è arrivato in questo borsone molto grande questa busta molto grande vi faccio vedere l'ultima borsa l'ultima borsa in qualcosa di veramente spettacolare questa io ve lo dico già dove lo porto è costata costa 12 euro e 10 ma ne vale assolutamente la pena questa è rigida la tolgo anche di queste ce ne sono veramente tantissimi è stato difficile scegliere io questa me la porto al mare ve lo dico già allora i manici intanto sono fatti così vedete in corda arrotolato molto belli abbiamo anche il nastrino carino allora qua davanti a questo nastrino molto fashion aspettate vedete che arrivo è qua ecco a questo nastrino molto carino che richiama ovviamente la borsa la borsa è stile animalier perché è molto anche a questa borsa dietro adesso la faccio vedere allora dietro è fatta così semplicemente così ovviamente che anche questa non sembra anche se la sentite piuttosto rigida ma il vino ve la faccio vedere bene vedete è in lino assolutamente in lino plastica qua non esiste allora dietro qua è così e davanti qui ci vuole la mano di una donna mettere il fiocco eccoci qua vedete così questa stile animali e e la parte davanti ed è stupenda veramente stupenda questa per andare al mare per metterci aspettano l'ha finito che le cose le scopronate guardate un po lascio dentro perché uno dice dove li metto le cose piccole c'è la cerniera guardate e anche bella capiente come cerniera c'è come sacchettino per la cerniera qui potete mettere un sacco di cose vedete e pareva che l'ho chiusa guardate che meraviglia è stupenda veramente questa è la ampieza arrivo a peppa e ce la faccio ce la faccio eccoci qua guardate quante grande prendo pomeriggio voglio andare al mare da sola di per me asciugamano creme e vado cioè giustamente le chiave però voglio dire è molto capiente c'è questa qui di utilizzarla per far la spesa veramente un peccato comunque è bella mi piace tantissimo e con questa io ho concluso io adesso mi abbasso così vi faccio vedere la prima la seconda e anche la terza che quella foderata queste sono le tre borse che mi è stato gentilmente omaggiato che dall'azienda che si chiama whisker sotto troverete tutti i link il link del com il mio codice sconto troverete i link di queste meravigliose borse che sono spettacolari stupende tutte e tre e io utilizzerò tutte e tre sicuramente le terrò fisse in macchina e il link dell'azienda e non so altro che ringraziare veramente di tutto cuore l'azienda per avermi dato la possibilità di conoscere questa meravigliosa azienda perché trovare un'azienda che al giorno d'oggi si prende cura dei prodotti che vende e ha cura di fare questi prodotti in lino con tessuti naturali con gli inchiostri naturali e a prezzi tipo questa qui delle rose costa solo 5 ore 58 poi ci mettete dentro anche il codice sconto cioè non è tanto per una borsa che poi comunque vi rimane la potete lavare di rimane non è che si consuma tipo quelle di plastica poi si butta via queste sono cose che rimangono per cui io veramente è un'azienda tanto di cappello veramente in gamba e basta fatemi sapere innanzitutto quale delle tre vi piacciono fatemi sapere cosa ne pensate di questa azienda del suo modo di vendere e di preoccuparsi dell'ambiente che è molto raro al giorno d'oggi tendono stella la maggior parte della gente al giorno d'oggi tende sempre a far di tutto per vendere senza pensare al dopo per cui io e va promosso queste queste persone qua queste aziende qua vanno promosse veramente per cui è stato per me un piacere farvela conoscere detto questo io vi ringrazio tanto questo video lo pubblico subito e vi ringrazio davvero con tutto il cuore fatemi sapere cosa ne pensate e aspetto i vostri commenti io vi voglio bene un bacio grande alla prossima ciao